Salta la palla 2, vinta da Alessandro Cittadini, è di Trieste il primo possesso della partita, Montano è già dall'altra parte, attacca il ferro, va a segnare in rovesciata, attacco Rayvonte Rice che va a posare al vento altri due punti, importantissima la difesa per Ravenna per questa partita. Montano, Masciadri passa a tre volte, Green, Raschi e Masciadri con Gerai Grant, Raschi gioca il pickerock con Grant, si butta dentro, poi trova Grant per un buon tiro dalla media, il tiro va a bersaglio, Montano si alza da tre punti e segna, Rayvonte attacca, va a posare a segnare un gran cadastro ai Montelai, poi Masciadri, Montano mette a forti piedi oltre l'arco, contro Green, attacca il cuore dell'aria, gira sul perno, a posa al perro e segna, Rice, il post passo contro Foronica, cerca l'avvicinamento, lo batte a posa al vento e segna, contro Green, si separa, resta chi lo dirà, e sta la lunetta, trafortare, camion tra schiena, sotto mano, grandissimo, cadastro di giacchetti, Chiomenti gira sul perno, poi ancora un giro di Buster, un cadastro di tecnica, arrivata per Masciadri, Masciadri, attacca Prandini, scarico per Chiomenti, ancora una giocata pazzesca, sui... Grazie per la visione!